Passeggiando Per ci porta a quest'oggi in Via D'Annunzio, una delle vie principali di Montesilvano. Ciao, buonasera, posso farvi una domanda? Siete di Montesilvano? Sì. Sei di Via D'Annunzio? No, verso Via Vestina, direzione Cappelle. Come mai in Via D'Annunzio? Cosa trovi di bello in questa via? Beh, diciamo che io, nel senso, ho l'agenzia immobiliare qui a Montesilvano, al centro, e quindi la zona è questa. La zona è questa, il punto di ritrovo è anche questo? Sì, certo. Tu? Ciao. Ciao. Io ho abitato qua fino a un annetto fa. Questo è un punto di ritrovo, diciamo, di Via Ovidio. Via Ovidio, perfetto. Sarebbe questo. E questo è un punto di ritrovo. Per un aperitivo, sì. È giusto, giusto ritrovarsi, chiacchierare, stare un po' in compagnia, sbagarsi un po', no? Eh sì, io sono di zona Villa Carmine, però il centro rimane il centro, si sposta lì per incontrarsi. Tu sei di? C'è Pagatti, un paese vicino Pescara. Conoscevi già questa via, conoscevi già Montesilvano, ovvio, penso di sì. Sì, sì, grazie a una mia amica. Eh, niente. Cosa ti piace di Montesilvano? Ma, eh, il bar, diciamo. E poi vabbè, ci abita una mia amica, quindi, niente. Buonasera. Buonasera. Cosa mi puoi raccontare di via d'annunzio qui a Montesilvano? Che una strada deve essere rivalutata al 100%, che la sera è morta. Ci vuole un po' di brio, un po' di gioventù, un po' di qualche evento da fare. Eppure si muove abbastanza Montesilvano sotto questo punto di vista, ci sono tante manifestazioni. Non c'è poco. Poco? Poco. Quindi si dovrebbe fare di più. Dobbiamo provvedere noi a farlo. Perciò. Quindi solo più movimento. Ci vuole più movimento. Oddio, andiamo anche incontro alla bella stagione. Cercheremo di fare noi un po' di qualcosa per movimentare l'ambiente. Grazie. Prego. Posso farvi una domanda? Ciao. Siete di Montesilvano, morde? No, no, è buono. Ok. Sei di Montesilvano, sei di qua, di via d'annunzio? No, via d'annunzio no. Qua vicino, via Silvia Spaventa. Cosa mi puoi dire di questa via? Tranquilla. Tranquilla, sì. Io non è che ci vedo da tanto qui, da 5-6 mesi. Dunque, tranquilla, sì. Ci sono diversi negozi, no? Dove poter fare acquisti o dove potersi svagare? Ehm, qua noi ci sa granché. Ci sa niente, non ci sa. Poi vengo da un'altra parte, quindi... Da dove arrivi? Io vengo dalla Germania. Ah, beh, quindi tutt'altro mondo. Tutto un altro mondo. Tu sei la ragazza? Di Montesilvano. Di Montesilvano. Cosa mi puoi dire di via d'annunzio? Allora, la mattina è una via comunque bella trafficata perché causa delle scuole. Però, diciamo che per passeggiare, comunque se ti vuoi fermare a un bar, tranquillamente lo puoi fare. Quindi è tranquilla, sicuramente molto tranquilla. Lei? Ciao, io sono di Montesilvano, nativo di qua. Sì, sì, come no. Nativo di qua, però vivo a Milano. Quindi non è che mi trovo più di tanto qui. Cittadina morta, molto morta, proprio morta. Cioè, per come vivo io la città, che è tutto un altro tipo di città. Sicuramente Montesilvano non si può paragonare a Milano, questo sicuramente. No, no, ma se ti giri intorno, tranne qualche piccola, qualche barretto dove, appunto, ti ritrovo. Io qua ci sono nato, sono 40 anni che ci vengo. Figurati, uno dei primi proprietari era il papà di un mio compagno di scuola. Quindi? Quindi ci vengo dalla bellezza di forse 35 anni, in questo bar specifico qui. Cambieresti qualcosa di via d'annunzio? Io cambierei proprio il centro di Montesilvano, un centro pedonale. Se si potesse fare, ma non si può. Ma non si può. Grazie. E passeggiando per via d'annunzio, Montesilvano, sono entrata al numero civico 62. Antonella, tu nel 2006 hai avviato questa bellissima attività, creando poi questo business. Vendita di usato per quanto riguarda i bimbi, tutto ciò che riguarda l'infanzia. Riguarda i bimbi, tutto da zero fino a 10-12 anni. Ci fermiamo a 10 ormai, perché la fascia a 12 anni ormai decidono da soli, quindi le mamme non riescono più ad accontentarli. Ci fermiamo a 10 anni, da zero a 10 anni. Il mercato come va? Dipende dagli articoli. Va molto il firmato, va molto l'usato, ma di qualità. La gente ormai non è stupida, quindi quando compra l'articolo usato pretende la qualità. Non è una questione di prezzo, è proprio una questione di apertura mentale. Tutto quello che si vende perché è vendibile, perché deve piacere al cliente, perché deve essere comunque a norma. Deve essere comunque di qualità, non ritiriamo articoli prettamente cinesi, che non rientrano nella fascia, tipo i giocattoli. Non ritiriamo giochi che non facciano parte della categoria giocattoli sicuri. Parliamo di via d'annunzio, una delle vie principali di Montesilvano. Siamo a pochi metri dal comune di Montesilvano e qui poi ci sono diverse scuole. La scuola elementare, materna, le medie. Come vanno le cose? Abbiamo un buon giro, avendo comunque una bambina che va a scuola, quindi comunque è un buon giro di mamma. La voce ormai siamo sul mercato, siamo in via d'annunzio dal 2006, quindi abbiamo visto comunque il crescere della città da alcuni punti. Alcuni punti sono carenti, però si cerca di migliorare. Noi facciamo del nostro, dar lustro per così dire, alla città. Abbiamo clienti che vengono da fuori, abbiamo clienti che vengono apposta da Roma, da Milano, da Ancona, da Lanciano. Non è dietro l'angolo, quindi se vengono perché trovano riscontro. Mostrando anche comunque tutto quello che ci sta intorno, perché magari da qui si fermano al bar, si fermano alla pizzeria e comprano comunque il pane dal vicino, la frutta, il fruttimendolo di fronte. Ecco, e qui volevo arrivare. Cosa ha da offrire questa via? Agli abitanti e non solo? Ma ci sarebbe da scoprirle, bisognerebbe camminare un pochino di più a piedi, soprattutto su lungo questa strada. Non prediligere per forza sempre i centri commerciali. La classica passeggiata, abbiamo il parchetto dietro l'angolo, abbiamo comunque la piazza del comune. Una classica passeggiata, madre, figli, ci sono le vetrine da guardare. Sono pochi i negozi, però sono buoni, per così dire. Il fruttimendolo, io mi sarò dal fruttimendolo di fronte, a buona frutta, non vado al centro commerciale a comprare la frutta. La panetteria o comunque il negozio senza glutine, dove comunque compriamo gli articoli senza glutine. L'agenzia viaggi a fianco, dove comunque ci serviamo o comunque mandiamo i clienti. Cerchiamo comunque di raggruppare un po' tutti. Se devo mandare un cliente, lo mando magari a un vicino comunque. Si collabora insieme. Bravissima, esatto. Così come fanno gli altri, se hanno bisogno, comunque li mandano da noi poi. Credo che sia la formula migliore per dar vita poi comunque alla strada, dal vita al quartiere. Altrimenti tutto sarebbe effettivamente molto, ma molto spento. Sono perfettamente d'accordo con te. Per quanto riguarda invece la bellezza di questa via, cambieresti qualcosa? Sì, molto più luce, soprattutto la sera, perché è poco illuminata. Poco sicura da questo punto di vista ci sentiamo. Almeno io come commerciante mi sento poco sicura, perché è poco illuminata. Quindi noi per esempio cerchiamo di illuminare un pochino di più le vetrine, cerchiamo di mettere, abbiamo messo i fari fuori, ma proprio per rendere più luminosa la strada. Vorremmo un pochino essere più messi, presi in considerazione anche dall'amministrazione comunale, ossia c'è una manifestazione, coinvolgeteci, fateci sapere, rendeteli partecipi a magari dei programmi che avete, non soltanto noi, ma che noi comunque insieme agli altri commercianti organizziamo, cerchiamo comunque di organizzare sempre nel limite del possibile, nel limite del lavoro, nel limite di tutto insomma. Però vorremmo, insomma, io noto questo, poca luce, i marciapiedi poco curati, il verde poco curato, tutto fa, tutto, anche l'occhio vuole la sua parte. Possiamo chiedere all'amministrazione comunale più attenzione, per quanto riguarda l'estetica. Sì, 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 perché anche l'occhio vuole la sua parte. Io, i clienti che vengono da fuori, a me farebbe piacere vedere comunque una bella iuola curata, non avere magari il caos, cioè, sono tutte cosine che comunque poi danno l'idea anche del paese. Certo. Tutto qui. Questa è considerata zona centro, rivalutiamola come tale. Grazie. Di niente. Grazie. 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 Grazie.